Io ho scoperto l'associazione arte americana quando ero studente all'università e quindi c'era questa opportunità di venire ad ascoltare nell'aula magna dell'associazione di allora questi conferenzieri in lingua originale, per me era un'esperienza bellissima soprattutto perché avevo possibilità di praticare l'inglese, che avevo studiato ovviamente alla scuola, all'università, ma non è la stessa cosa e fare dei viaggi insomma in Inghilterra era un po' più complicatino, quindi ho apprezzato moltissimo questa possibilità di venire all'italo americana, ascoltare i conferenzieri, magari qualche volta prendere in prestito dei libri per leggere insomma in lingua originale e poi anche successivamente, negli anni successivi comunque ho frequentato anche il programma dei film in lingua originale che venivano dati, credo all'Ariston per tanti anni e anche questa devo dire è stata un'opportunità eccezionale che so continua anche ai giorni d'oggi, insomma trovo che sia un'esperienza molto interessante, molto bella, che non può essere soppiantata da internet. Nel 1979 sono stata assunta dall'USIS, United States Information Service, proprio come dipendente e proprio in quell'anno l'USIS si è trasferita, o anzi ha cercato una propria sede, staccandosi in un certo senso dall'associazione italiano-americana con cui aveva condiviso la sede per molti anni in via Roma 15 e forse anche prima in via Galatti. La nuova sede quindi del consolato e dell'USIS si è trasferita nel 1979 in via Roma numero 7 nel palazzo dove adesso c'è la banca, la Deutsche Bank tanto per capirsi, all'ultimo e al penultimo piano. Allora direttore dell'USIS era il console Sterling B. Steele e come funzionari c'erano Bruno Orlando, giornalista e noto per il suo supporto e contributo insomma alla creazione del Trieste Science Fiction Film Festival, di cui era tra l'altro addetto stampa, e l'altro funzionario era Paolo Berz che poi appunto ha lavorato e ha collaborato a lungo con l'associazione interamericana sia prima che dopo fino alla chiusura dell'USIS ma anche poi diventando appunto agente consolare fino alla sua comorta insomma nel 2006. L'USIS probabilmente ha generato in questo senso, ha dato il via agli inizi all'associazione interamericana che era un'associazione invece diciamo italiana ma che i cui scopi di entrambe diciamo le realtà, un'era governativa statunitense e l'altra privata insomma in Italia, italiani e appassionati di cultura americana, ma lo scopo fondamentalmente era quello di far conoscere e quindi incentivare e promuovere insomma anche l'amicizia in un senso molto ampio e lato tra i due paesi, diffondendo appunto la cultura e la conoscenza si promuove anche l'amicizia e la pace. Ma le attività dell'USIS che a cui, di cui io insomma sono, mi sono occupata erano sostanzialmente imperniate su questo, cioè innanzitutto mantenere una fitta rete di rapporti con tutte le realtà istituzionali, diplomatiche, economiche, culturali, con il mondo accademico, il mondo della stampa, della televisione eccetera, quindi a livello del Triveneto, la sfera di influenza appunto dell'USIS era il Triveneto. Poi c'erano delle iniziative più mirate, quali per esempio l'organizzare le visite e le conferenze di relatori di vari argomenti anche molto importanti, relatori per cui organizzavamo le conferenze, non sono nelle università, negli istituti di ricerca e così via, chi più ne ha più ne metta e sono venuti, sono passati diciamo per Trieste e quindi per il Triveneto personaggi di spicco molto, anche molto famosi. Cito una perché mi viene in mente, perché mi ha anche regalato un libro con dedica, è la Niki Giovanni che è una famosa poetessa afroamericana che adesso non mi ricordo l'anno esatto, ma insomma per cui abbiamo, per la quale abbiamo organizzato delle conferenze, una a Venezia per certo. L'USIS in tutto questo periodo naturalmente ha collaborato sempre con l'Associazione Italiana Americana fornendole, non so, per esempio le riviste audiovisivi, filmati, libri, c'è appunto un lascito importante della collezione di libri che l'USIS ha lasciato credo in eredità all'Associazione Italiana Americana, filmati e quant'altro. E poi anche l'USIS quando portava dei relatori per essere, perché tenessero insomma le loro conferenze nel Triveneto, molto spesso una delle sedi dove venivano appunto fatti parlare era presa anche l'Associazione Italiana Americana, approfittando del fatto che comunque insomma aveva una sede prestigiosa, una bella aula magna e aveva anche un sacco di soci che erano interessati a seguire questi relatori. Poi credo che desse anche un sostegno ai corsi di inglese che facevano parte appunto dell'attività dell'Associazione Italiana Americana e sosteneva anche, c'era un programma dell'USIS a sostegno degli insegnanti d'inglese per fornire loro gli ausili e i supporti per appunto una didattica più approfondita insomma dell'inglese. L'Associazione Italiana Americana tra l'altro negli ultimi anni ha conosciuto un impulso e una vivacità che forse prima non aveva, però sicuramente è importante nel mondo d'oggi in cui siamo ormai, c'è tanta concorrenza, siamo tanto bombardati da informazioni e iniziative, è importante comunque essere al passo, quindi proporre sempre anche delle cose nuove che possano mantenere l'interesse su di noi. Quindi l'Associazione Italiana Americana credo che questo l'abbia fatto grazie anche alla nuova direzione. Io ho apprezzato moltissimo questo cambio di passo, ho notato che si è appunto aggiunto ai propri programmi tradizionali che erano appunto quelli dei film, della biblioteca, delle conferenze, dei corsi d'inglese, ma ha aggiunto un sacco di altre iniziative che trovo molto stimolanti.